Allora ragazzi la SF23 che vedremo a Las Vegas è bellissima Peccato che andiamo lì per fare una grandissima sfilata Almeno non si figuriamo col vestito La macchina non so quanto potrà dare nell'occhio Però esteticamente è davvero bella Quella alla posteriore bianca ahimè sarò romantico Sarò dal tonico mi ricorda troppo la F2004 Anziché vederci una scritta Ferrari ci vede una scritta Malboro Però se mi impegno anzi se mi metto gli occhiali arrivati a questo punto Ci vedo anche la Ferrari di Fernando Alonso Oppure anche la SF70 Insomma non per forza ricordi belli però è stupenda Bei tempi quelli con la F2004 Quest'anno per numero di livree ce la giochiamo con la McLaren Anche per livree più belle ce la giochiamo sempre con McLaren Tra lasciamo un attimo Red Bull che la livree speciale portata a Miami Era davvero scena non si può guardare Però lasciamo da parte l'estetica Oggi abbiamo un sacco di cose da dire Abbiamo un sacco di argomenti da trattare Non è neanche Race Week che questo circuito ha fatto parlare Ha scatenato un sacco di polemiche Noi oggi facciamo un bel riassuntone E cerchiamo anche di capire quelle che sono le caratteristiche di questo circuito Innanzitutto Io non tratto temi politici Di solito cerco anche di tenermi il più distante possibile da quest'ultimo Ma giusto per conoscenza personale Non ce ne frega nulla Ma che non passassino osservato che il 16 novembre è prevista un'invasione di massa al circuito di Las Vegas Circa 35.000 lavoratori di catene ed alberghi e casino starebbe pensando di scioperare Poiché i contratti che li vedono impiegati con le loro aziende non sarebbero proprio adeguati Rispetto al loro posto e al loro impegno Se ne sta parlando poco probabilmente neanche succederà nulla Perché si sta utilizzando questo pretesto per magari ottenere qualcosa in cambio Sappiamo come funziona È una mossa politica per accentuare una rivendicazione che è storica Ed è giusto che certe tematiche anche nel piccolo vengano almeno citate Io comunque mi tengo fuori Al lato politico non ci penso Ognuno è libero di pensare quel che vuole E non devo essere io a influenzare nessuno Ma è giusto che questa cosa venga citata Perché è importante Detto questo parliamo del circuito di Las Vegas Bene è un circuito veloce Anzi per velocità che si raggiungono vicino ai muretti Qua si ricorda Jedda Ma non facciamo l'errore di paragonare Las Vegas con Jedda I due non hanno niente a che vedere Se non i muretti vicino alle alte velocità Il circuito di Jedda ha tantissime curve Mentre quello di Las Vegas ne ha poche E tante di queste sono addirittura false Poche curve vado a mettere in dubbio Curva 10 e 11 Curva 13 Curva 17 Sono curve dove si arriva con tanta velocità E in alcuni casi si frena pochissimo se non nulla Abbiamo inserimenti di curve molto larghi che tendono a restringersi E abbiamo un sacco di curve cieche Fattore dunque importantissimo per questo camp premio Sarà la comunicazione tra il muretto box e il pilota Le due parti devono interagire benissimo Altrimenti si rischiano penalità gratuite e impeding Sai com'è siamo a Las Vegas tra le varie slot e la roulette Non ci vuoi mettere anche un bonus di penalità per impeding Magari in qualifica me lo aspetto tranquillamente Oppure in uscita dai box perché tanto il rettilineo a Las Vegas Non ce l'abbiamo Han ben pensato di fare l'uscita dai box in curva Geniale pensare di mettere un'uscita dai box in traiettoria di curva Il rischio è che qualcosa stile GP della Corea 2011 si possa verificare Non so quanti di voi hanno in mente quell'evento Siamo nelle prove libere numero 2 nel 2011 Nico Rosberg andò al contatto con la Toro Rosso di Al Gessauri Nulla di grave successe Anzi se riguardiamo quelle immagini Quella uscita lì era decisamente più criminale di questa Poi ci sono delle differenze Quella era esterna e questa interna Però il succo del discorso è molto simile E dato che comunque il rettilineo era lungo Potevi pensarci Non era troppo un problema trovare un'altra soluzione Superiamo questo ostacolo abbiamo anche delle bellissime curve lente Tratti dove la monoposto quasi si ferma E questo unito ai lunghi rettilinei ti fa pensare subito una cosa Quando si frena lo si fa forte e c'è bisogno di ripartire Conta tantissimo quindi trazionare bene E sotto questo punto di vista a livello di layout nudo e crudo La Ferrari si colloca in una buona posizione Si sposa abbastanza bene con il layout C'è però ahimè un'incognita importantissima Lo sappiamo tutti Ragazzi è inverno si corre in America Fa freddo Si parla di temperature che oscillano tra i 5 e i 10 gradi Non voglio credere che la federazione si sia davvero fatta trovare impreparata su questo punto Date le parole di Ross Brown Un po' il dubbio mi sale Per chi non lo sapesse ha esplicitamente detto Che non avevano preso in considerazione il fatto che facesse freddo Si potrebbe soffrire lato pneumatici Perché è difficile mandarle in temperatura Però da un lato possiamo vedere anche Cofani motori molto stretti O delle branche molto piccole Perché non c'è bisogno di raffreddare troppo la power unit Potrebbe essere un vantaggio per quanto riguarda l'affidabilità Tema di discussione non dovrebbe essere l'affidabilità Quanto sicuramente la temperatura delle gomme Con i lunghi dettilini Questai per circa 10 secondi Con l'ottava marcia Non sarà proprio facilissimo Mantenere gli pneumatici nella giusta finestra di utilizzo E questo potrebbe portare a tantissimi scenari Che mettono anche in dubbio la sicurezza Ma te lo dovevi aspettare Se nel deserto In America A novembre Perché a livello di sicurezza Facciamo tante storie Poi mi metti l'uscita dei box in traiettoria E mi fai correre a Las Vegas d'inverno Io immagino che i team Un po' per ovviare al problema Opteranno per una campanatura Leggermente meno negativa rispetto al solito L'inclinazione degli pneumatici Non sarà marcata come al solito Si cercherà di mettere quindi Lo pneumatico più perpendicolare all'asfalto possibile Per evitare zone dove si possa raffreddare la gomma Mi preparo anche a vedere qualche furbetto Che il rettilineo Prima del giro lanciato Faccia qualche zig zag Anche qui a livello di sicurezza Potremmo parlarne Non possiamo però parlare sempre di questo Insomma comunque corrono delle gare di Formula 1 La componente di rischio c'è Meglio che mi scaldi le gomme Qui posso anche passarci sopra Anche se poi qua si apre un altro dibattito Qual è il limite Quando è sicuro una cosa e quando no Uscendo però dal discorso E tornando un po' a casa mia Parlando di Ferrari Se il layout si sposa bene con la SF23 L'entrare nella giusta finestra di utilizzo La temperatura degli pneumatici L'usura delle gomme Non è proprio nelle corde della Ferrari Non lo è neanche per Mercedes Abbiamo visto che i lunghi rettilini Tendono a far soffrire la V14 Sappiamo che la V14 è forte nelle curve Dove serve tanto carico aerodinamico Qui abbiamo curve di trazione Abbiamo lunghi rettilini Non si sposa benissimo con la Mercedes Però per lo scontro costruttori Sulla carta Salvo incognite La Ferrari avanti Non puoi non porti come obiettivo Almeno il terzo e il quarto posto Con le Berk e Sainz Dopo questa c'è solo la Budapia È solo una gara Se non fai questo risultato Sperando che Mercedes stia dietro Non la rimetti a posto Questo è il circuito dove sei più all'attacco Dovevi ottimizzare in Brasile Ma ahimè Brasile è passato E non ci abbiamo corso O si ottimizza qui O non si ottimizza mai Perché l'ultima a Abu Dhabi È forse lì per caratteristiche del circuito La Ferrari addirittura è in difesa Voi sapete che a fine anno Portiamo il pagellone Lo facciamo insieme Chiedo il vostro parere Il mio parere Poi vabbè vi aggiorno Iscrivetevi al canale Sarebbe una Ferrari incommentabile Ma neanche per il pagellone Perché poi Fosse il pagellone il problema Ma per il blasone del team Per il fatto che non si vince da un sacco Io ti dico terzo e quarto Posso accettare terzo e quinto Ma la realtà dei fatti È che tu devi puntare addirittura Un secondo posto In casa Maranello Non sembra ci sia intenzione Nel cambiare le power unit Al momento Quella di Leclerc Che si è ritirata in Brasile Non dovrebbe avere problemi Poi ovviamente Seguono aggiornamenti Anche per questo Seguitemi su Instagram Fondamentale E se così dovesse essere Te la devi giocare Il circuito di Las Vegas Non ha niente a che vedere con Jedda Io te l'ho paragonato a Jedda A inizio video Per le velocità di punta A fianco ai muretti Ma se dovessi paragonare Questo circuito Lo farei con Monza E Ferrari a Monza È andata bene Motore spremuto all'osso Sicuramente La Ferrari ha chiesto Tanto da quella power unit Ma avevamo lunghi rettilinei Avevamo curve lente Curva 1 e 2 Dove c'era bisogno di tanta trazione A seguire Altra chicane Dove Ferrari poteva andare bene Le due lesmo Così così Ascari Non era proprio nelle corde La parabolica Idem Non ci abbiamo però Un qualcosa di molto simile Alla parabolica Non ci abbiamo qualcosa Di molto simile Alla Scari Ho dubbi per curva 6 A Las Vegas Perché è un curvone veloce Per poi approcciare subito Una chicane Vediamo lì potrebbe avere problemi La SF23 Ho dubbi in curva 12 Però lì conta anche Quanto puoi andare oltre Il limite della pista Prima di toccare il muro Ma per il resto Paradossalmente Las Vegas È più di Monza Se il motore di Charlie Clark È a posto Non ci sono problemi Questo non è uscito Top secret Si dice il differenziale Voglio anche non saperlo L'importante è che mi viene certificato Che questo davvero è a posto Spremetelo Tanto se ti ritiri per affidabilità Fai terzo Se preservi il motore Fai terzo lo stesso Hai l'obbligo di piazzarti davanti alla Mercedes E di fare un buon risultato Il problema fondamentale È centrare la giusta finestra di funzionamento Questo può danneggiare tantissimo La rossa Può portarti dalla seconda All'ottava Su questo Red Bull è fortissima McLaren insieme alla RB19 Manda subito in temperatura Le gomme Ed accendono subito Ma bisogna essere chiari In questa occasione Ti accogli il rischio Di avere problemi di affidabilità Ma tanto Terzo con rottura O terzo per preservare Se mi fondi il motore Non cambia niente A questo punto provaci Adesso ragazzi Iscrivetevi al canale Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemelo sapere con un commento Con un like Ditemi quello che pensate Magari esprimete anche la vostra Sul primo passaggio Che ho fatto in questo video Lato lavoratori E godiamoci questo fine settimana Senza Formula 1 Seguitemi sui social Mi raccomando Trovate tutti quanti i link in descrizione Io vi saluto Da Tonio E da tutto Passo E chiudo